Adesso impariamo alcune parole che ci possono essere utili se ci troviamo in vacanza in Italia. Quale ristorante mi consiglia? Mi porta un bicchiere di vino, per favore. Brinden Sie mir bitte einen Wein. La colazione. Frühstück. Il pranzo. Mittagessen. La cena. Abendessen. Il conto, per favore. Die Rechnung, bitte. Buonissimo. Sehr lecker. Sale e pepe. Salz und Pfeffer. Si può pagare con la carta di credito? Kann man mit credit card bezahlen? Cameriere, il conto, per favore. Il obere. Bitte, die Rechnung. Dessert. Nachtspeise. Caffè, Tè, Caffè macchiato, zucchero, latte. Caffè, Tè, Caffè, Milch, Zucker, Milch.